Ce ne scendiamo giù Prossima guida turistica? Campoli Dovremo fare guida turistica? Video? No, ormai ci siamo nobili Videoguida Videoguida turistica Videoguide Sì, dovremmo fare Un euro Un cd No, va poi, cacchio Due euro Facciamo tre, non ce ne parliamo più Qua è dove si sono ammazzati Jennifer e Giuseppe In motorista Non dire questi pochi Non parliamo di persone che non sono presenti E Giuseppe è mio fratello Che tipo Ci prenderanno in giro con questo video Non è una video guida serie È una video guida ironica A pomare che l'audio Ilare L'audio lo si può anche cambiare No, lo cambieremo Sa già che sono il video E si rocca più Questa traccia originale Ma che ci vuole rifarla? Ci metti? Se le disti la nostra conversazione con Sky E come fa a tenermi l'altra definizione? Eh, non lo tiene se aggiungi un altro audio Mi impazzisce Perché? Ma che ne so O perché è troppo debole per il pc O perché Allora lo facciamo col mio? Ho provato a farlo Sì, sì Lo facciamo col mio? Oppure si mangiava Tipo Si moltiplicava lo spazio Sì Ti giuro Se tu gli lasci La cosa di Predefinita Perché se era un giga Diventavano 10 giga Porco giù E quello è impazzibile Allora devo per forza Cambiare il formato E mettere un formato più basso Che Che però Non è più In alta definizione Come vuole la Sky Che ci promuove Sì Promuove la canta Come fa a mandare i suoi video Su Sky HD Di passaggio Se non li facciamo noi Turisti per caso Eppure dobbiamo fare così Se no Non otteniamo l'alta definizione No, guarda Se vuoi posso provare io Col mio A provare a cambiare l'auto E se vuoi cambiare l'audio No, l'audio ormai Vediamo Se non abbiamo detto Fetterie Tu li ricontrolli sempre Al massimo lo stoppi Tagli l'audio In quel momento Non annoiiamo Con questi tecnicismi Del nostro lavoro Che tanto mi piace Ben retributo Ovviamente Torniamo a queste bellissime montagne Potete osservare Tritta alla strada Le scogliere del Monte Stella Non hai proprio proprietà di linguaggio No, io Ha proprio proprietà di linguaggio Allora Mi chiamo Andrea Tavernite L'italiano non lo so La bellezza della scogliera La scogliera Oh, come si chiama? I timpi I chi? I timpi I timpi Bella, è una timpa Una timpa, ecco Potete notare le timpe La bellezza delle timpe Vi ricordo che Vi dito a questo tornante Potete trovare una tana di lupo Confermata da Giuseppe Non l'ho mai vista No, la vuoi andare a vedere? C'è una tana di lupo E l'anno scorso Siamo andati con Giuseppe C'era una carcassa Una carogna di... Eh no, non avete fatto la cosa Sono cose che i cittadini vogliono vedere Non l'hanno mai vista una carcassa? No, non è carcassa È la carogna La carogna è quando ci sono ancora Pesti di carne attaccati Ah, allora adesso lo facciamo l'italiano Contrada Melichicchi di nuovo Ecco Non si fanno nomi Ma niente Si diceva E io faccio niente Si diceva Quarto tornante che è visto Quarto tornante Silenzio, silenzio Andiamo piano Noi in seconda Mi raccomando Sono stati tornanti in seconda Qua ci bastano I camion E gli autotrasporti Però se ogni tanto vale più girarlo Un freno a mano L'artiglia di imbottigliamento Della marciatorella Quindi dovete andare Con prudenza Perché se vi arriva Sbosto un camion La videoguida non vi salva Non si tiene responsabilità Nessuna Ovviamente Io garantisco il video Non garantisco Eccolo Il camion Pagli nel camion E puntano le ruote 600 sti casi Allora La videoguida Pagliotte e Taverniti Consiglio di non bere la guida Affrontare le curve in seconda E non superare un massimo Di 50 km orari Prudenza Innanzitutto Poi il divertimento Poi Fate come volete voi Ma dovete rispettare le leggi Della Calabria Calabrese Ancora Ancora c'è stata la secessione Questa ci sarà Seguirete le leggi Della Calabria Ulteriore Ulteriore L'antica regione Del regno delle Sicilie Oppure Come Era una volta Della contea di stilo Dicevamo Che Della contea di stilo Queste sono piccole case Rurali Si fatte costruire negli anni Sessanta Perché erano incentivate Dallo Stato Non so per quale motivo Approfondiremo le ricerche Che poi ormai Alcune si sono sviluppate Alcune si sono perse Addirittura L'Enel promuoveva L'elettrificazione Di queste case Poi non se ne è fatto più niente Quando l'Enel è diventata privata Visto che non ci conveniva E quindi Tutte le case Molte case Sono andate all'abbandono Ma alcune Invece Non so come fanno Soprattutto Per l'utilizzo Per la Dica Penso che Dica Collega Soprattutto per Ben utilizzata come magazzino Per gli attrezzi Non come casa Ma anche per fare Scialate Andate a trovare Sul dizionario Del Rolf Cosa vuol dire Scialate Scialate Qua invece C'era la Fonte Brisi O il mulino Potete visitare Oppure Se salite Ritornate a Montestella A piedi Se invece scendete Arrivata la Fontana Vecchia La Fontana Vecchia Tipica fontana Bellissima Del Settecento Di Pazzano Costruita per I I minotori Che andavano a lavorare In miniera Era un luogo Di rinfresco Anche per i giunci Per i giunci Perché da lì Si passava Per andare In campagna Quindi Abbeveravano i giucci Poi partivano Per le lunghe Camminate Verso le campagne Cioè I futuri Ormai Si sta comprovendo Il nostro viaggio Stanno a ritorno Quasi al cimitero Eccolo lì Che si vede Ora Stiamo rientrando 3 2 1 Stiamo a ritorno Stiamo a ritorno